Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori, un chilometro di coda tra Valdarno e Incisa-Reggello. Sulla Fipilì, per lavori, possibili disagi tra Monterupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!